Ma il bravo presentatore si trasforma anche nel bravo cantante, quindi Marco Flevici. Grazie, grazie mille. Così indegnamente, così indegnamente. Allora, io canterò un brano adesso bellissimo, insomma, un brano che mi piace. Vi racconto un piccolo aneddoto. Questo è un brano francese, ma nessuno lo conosce come brano francese, perché lo ascoltò a Polanca nel 1969, gli piace tantissimo, prese l'aereo e volò a Parigi per, insomma, prendere i diritti, insomma, acquistare i diritti di questo pezzo, lo portò in America, rifece completamente il testo in inglese, ma non seguendo il filone francese, proprio cambiò completamente l'idea del testo. E lo propose ai grandissimo Frank Sinatra, al quale, pensate, questa è storia, al quale non piacque, cioè non voleva cantarla, non voleva inciderla. Fu la figlia, Nancy, che lo convince, perché già Frank Sinatra è popolarissimo, Nancy Sinatra vedeva questo pezzo proprio ancora più agevole per aumentare ancora di più la grande carriera del padre. Vabbè, il titolo non ve lo dico, lo capiremo. Vabbè, il titolo non ve lo dico, 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 non ve lo dico. Non ve lo dico, 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 I find it all, it's so amusing to be, I need a debt, and may I say, not in a shy way, hold on, not on me, I need it my way. For God is a man, what has he got, if not I am there, then he is now, to say it feeds, it truly feeds, and all the world, come on it, the rebel job, I told the Lord, and in my way. Yes, it was my way. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very muchiej. Grazie a tutti.